Questo video del corso sui fondamenti dell'agopuntura e medicina cinese è dedicato ad approfondire un argomento fondamentale della medicina cinese, il sistema dei cosiddetti canali o meridiani. Il testo di riferimento per lo studio e per l'approfondimento è il primo volume del trattato di agopuntura e medicina cinese che ho curato per i tipi della casa editrice anglosiana, si intitola Fondamenti di Agopuntura e Medicina Cinese e è stato edito dal sottoscritto e da altri quattro autori. I canali Jing Luo rappresentano l'ossatura energetica del nostro organismo lungo la quale sono disposti i punti di agopuntura che ogni giorno utilizziamo per curare le malattie. Questo video è dedicato ad approfondire gli ideogrammi Jing e Luo, a presentare una panoramica di tutti i canali e a fare degli esempi pratici del percorso di alcuni di essi. I Jing Luo, canali o meridiani. In primo luogo vale la pena di capire come in cinese si scrive Jing Luo. A sinistra vediamo l'ideogramma Jing e a destra invece l'ideogramma Luo. Nell'ideogramma Jing abbiamo un radicale di sinistra che indica la seta e in particolare l'ordito di un tessuto. A destra abbiamo, in alto dei corsi d'acqua sotterranei, sono tre corsi d'acqua sotterranei. Si vede in alto una linea che indica il suolo e poi i tre corsi d'acqua sotterranei. E in basso l'ideogramma del lavoro, quindi il lavoro per identificare i corsi d'acqua sotterranei, dunque la geomanzia. In totale questo ideogramma indica che esistono dei percorsi, dei vasi, che sono l'ordito del nostro organismo, che possono essere identificati dall'esterno con un lavoro di indagine che assomiglia a quello della geomanzia. A destra abbiamo invece l'ideogramma Luo, che indica sempre una trama che tuttavia svolge funzioni di collegamento all'interno del corpo. E' interessante che con il termine Jing, che serve per identificare appunto i cosiddetti Jing Luo, si identificano nella cultura cinese anche i testi classici antichi che svelano le profonde verità dell'esistenza e che collegano l'uomo al cielo e alla terra. Dunque i Jing sono contemporaneamente una trama di collegamento tra il cielo, la terra e l'uomo e la trama che sorregge la struttura del nostro organismo. Questo è veramente molto, molto suggestivo. I Jing Luo, dunque, sono una rete energetica. Questa rete energetica, la vediamo in questa antichissima immagine, collega le estremità con il tronco, collega la parte alta del corpo con la parte bassa del corpo, collega la sinistra con la destra, collega la regione ventrale con quella dorsale e collega gli organi e visceri tra loro. Vediamo in questa altra immagine, anche questa antichissima, appunto il collegamento degli organi e visceri tra loro e con l'intero organismo. Il sistema dei canali o meridiani è un sistema assai complesso, formato da una serie di canali. In primo luogo abbiamo i 12 canali principali Jing Mai e poi gli 8 canali straordinari o curiosi Qi Jing Ba Mai e poi i 16 vasi Luo longitudinali Luo Mai, definiti anche Pie Luo e i 12 vasi Luo trasversali, che invece vengono definiti Hang Luo e poi i Luo minori o fini o superficiali, definiti Sun Luo, Fu Luo, Su E Luo e poi i 12 canali distinti o divergenti Jing Bie 12 canali tendinomuscolari Jing Jing e da ultimo le 12 zone cutanee Pi Bu. Cerchiamo di fare un po' di organizzazione di questi canali. Esistono in primo luogo 12 canali principali Jing Mai. I 12 canali principali Jing Mai sono divisi in 6 canali Yang collegati con dei visceri e 6 canali Yin collegati con degli organi. Ogni canale principale ha un Luo longitudinale, un Luo trasversale, un canale distinto, un canale tendinomuscolare e una zona cutanea. Dunque abbiamo dei vasi che possiamo definire secondari dei canali principali. Per questo ci sono 16 vasi Luo longitudinali, 12 vasi Luo trasversali, 12 canali distinti, 12 canali tendinomuscolari, 12 zone cutanee. Perché i vasi Luo longitudinali sono 16 invece che 12? Perché ai 12 vasi Luo longitudinali normali si aggiungono altri 4 vasi Luo che potremmo definire straordinari. Sono il vaso grande Luo dello stomaco e della milza e poi il Luo del Rem Mai e del Dumai. A questa serie di canali principali e secondari dei canali principali si assommano i cosiddetti canali straordinari o curiosi, i Qi Jing Ba Mai. Gli 8 canali straordinari o curiosi sono divisi in due gruppi, quelli di prima generazione e quelli di seconda generazione. Come vedremo questi hanno un ruolo importante nell'embriologia energetica dell'organismo. E di questi 8 canali straordinari o curiosi ne esistono due, il Rem Mai e il Dumai, rispettivamente il canale che percorre la linea sagittale mediana anteriore e quello che percorre la linea sagittale mediana posteriore che hanno punti loro propri e un tragitto loro proprio. E poi esistono altri 6 canali straordinari che invece hanno un tragitto loro proprio ma non hanno punti loro propri, nel senso che si servono dei punti dei canali principali. Come dicevo, gli 8 canali straordinari o curiosi, Qi Jing Ba Mai, sono a loro volta divisi in due gruppi, quelli di prima generazione e quelli di seconda generazione. Quelli di prima generazione sono i due citati già in precedenza, il vaso concezione o Rem Mai e il vaso governatore o Dumai che percorrono rispettivamente la linea sagittale mediana anteriore e posteriore e poi il vaso cintura Tai Mai che taglia tra virgolette l'organismo in una zona al di sopra e al di sotto di questa cintura a livello della linea umbilicale trasversa. E poi esiste un ultimo canale che si chiama Chong Mai il quale dirige, tra virgolette, dal punto di vista embriologico la strutturazione interna del corpo verso l'alto e verso il basso. Abbiamo poi i canali straordinari di seconda generazione che sono due coppie, lo Yin e lo Yang Wei Mai, lo Yin e lo Yang Chao Mai. Dunque, riassumendo, dodici canali principali collegati agli organi e visceri, sei organi e sei visceri, e i canali secondari di questi dodici canali principali, i luo longitudinali, i luo trasversali, i distinti, tendino muscolari e infine le zone cutane. E poi, otto canali straordinari o curiosi divisi in due gruppi, quelli di prima generazione e quelli di seconda generazione. Giusto a titolo puramente esemplificativo, diamo la descrizione di un canale per ognuno di questi gruppi che abbiamo citato. Quello che vedete in quest'immagine è il canale principale del rene, che come vedete origina al polpastrello del quinto dito del piede e attraversa la superficie plantare sino a giungere al punto uno rene che sta tra i due cuscinetti plantari nella depressione esistente tra questi due cuscinetti, all'unione del terzo anteriore e del terzo medio della pianta del piede. Il canale poi raggiunge la faccia mediale del piede in corrispondenza del punto due rene situato sotto lo scafoide, procede posteriormente fino al tre rene che si chiama Tai Si nella depressione tra il maleolo mediale e il tendine di Achille. Discende lungo il solco che costeggia anteriormente il tendine di Achille raggiungendo il cinque rene sul bordo interno del calcagno e il sei rene posto sotto il maleolo mediale. Sale poi al sette rene che sta a due distanze sopra il punto più sporgente del maleolo interno sul bordo anteriore del tendine di Achille. Con un breve percorso orizzontale a direzione anteriore raggiunge il bordo posteriore della tibia in corrispondenza del lotto rene e da qui riprende a salire convergendo al sei milza Saninjiao tre distanze sopra la sporgenza del maleolo mediale. Sale lungo la zona mediale del polpaccio nel solco tra soleo e gastrocnemio fino al ginocchio in corrispondenza dell'estremità interna del poplite fra i tendini del semitendinoso e semimembranoso dove si trova il punto dieci rene Yingu. prosegue questa salita lungo la faccia posteriore mediale della coscia e raggiunge il perineo dove si anastomizza con il punto uno vasogovernatore fra la punta del coccice e l'ano. Segue poi la colonna e raggiunge il rene e poi discende nella pelvi interessando la vescica e i genitali interni questo ovviamente è un percorso interno. Affiora a livello del remai dunque lungo la linea sagittale mediana anteriore in corrispondenza dei punti 3, 4 e 7 vasoconcezione remai. Un ramo interno continua a salire dal rene al fegato attraverso il diaframma entra nel polmone raggiunge la gola e raggiunge la radice della lingua prendendo contatto con il punto vasoconcezione 23 che si trova nella piega del collo. Un altro ramo interno si separa dal polmone e raggiunge il cuore si distribuisce al torace e si unisce col canale di pericardio nel punto 17 vasoconcezione Shangjong. Il percorso esterno discende lungo l'addome dai punti appena descritti del remai e raggiunge il punto 11 rene che è posto sul margine superiore della sinfisi pubica a 0,5 distanze dalla linea mediana. Il segmento addominale sale mantenendosi sempre parallelo al remai a 0,5 distanze dalla linea mediana fino al punto 21 rene situato in sede sottocostale poi si sposta all'esterno e raggiunge il quinto spazio intercostale in corrispondenza del margine dello sterno dove è localizzato il punto 22 rene e da questo punto inizia il segmento toracico che procede, equidistante dalla linea mediana e dalla mammillare lateralmente al margine dello sterno interessando gli spazi intercostali per terminare in sede sottoclavicolare dove si trova il 27 rene. 27 sono i punti del rene distribuiti lungo questo canale. Come vedete si tratta di un percorso piuttosto complesso in parte esterno è quello che in questa figura è evidenziato con una linea intera e in parte tratteggiato che in questa figura è evidenziato con la linea tratteggiata in parte è interno. Dunque un percorso in parte esterno evidenziato in questa figura con la linea intera è in parte interno evidenziato in questa figura con la linea tratteggiata. La cosa interessante del canale principale di rene è quella che il suo percorso interno raggiunge la regione laterale del collo e raggiunge la radice della lingua. Bene, in realtà questo percorso interno del rene corrisponde al percorso che embriologicamente viene tracciato dal pronefro che origina proprio nella regione laterocervicale. Embriologicamente infatti il rene si forma da cellule che stanno nella zona branchiale dove tra virgolette nei pesci stanno le branchie dunque nella zona laterocervicale. Queste cellule discendono verso il basso e nel frattempo che discendono vanno incontro a dei processi morfogenetici che le differenziano sempre di più fino a che non diventano appunto cellule del surrene e del rene. A questo punto si fermano nella loggia renale. Alcune di queste cellule però procedono ulteriormente e andranno a formare l'ovaio nella donna e il testicolo nell'uomo. Tant'è vero che capita che in alcuni bambini il testicolo sia ritenuto in cavità addominale proprio perché questo processo di migrazione verso l'esterno non si è compiuto del tutto. Vediamo ora un canale tendinomuscolare quello del rene. Vediamo qui a sinistra la figura del canale principale e vediamo a destra due figure del canale tendinomuscolare. Il canale tendinomuscolare in parte ripercorre il percorso che abbiamo appena descritto ma in parte si differenzia. Inizia sotto il quinto dito del piede e attraversa la superficie plantare per giungere al punto 1 rene che è quello che abbiamo appena descritto. Procede posteriormente verso l'alto fino al punto 3 rene nella depressione tra maleolo mediale e tendine di Achille. sale ancora lungo la zona mediale del polpaccio fino a arrivare al ginocchio e a collegarsi al 10 rene all'estremità interna del cavo popliteo tra i tendini del semi tendinoso e semi membranoso. Poi continua a salire lungo la faccia postero mediale della coscia e raggiunge il perineo. Dal perineo si diffonde in alto in avanti lungo la faccia interna della coscia si inserisce al livello dei genitali e raggiunge la cosiddetta zona di riunione che è formata dai punti 2 e 3 vasoconcezione lungo la linea sagittale mediana in sede sovrapubica. Un ramo poi parte dal perineo sale alla colonna vertebrale ne percorre interamente i lati dall'interno specularmente al tendino muscolare di vescica e raggiunge il punto 10 vescica Tianzhu situato sulla nuca a livello dell'inserzione del trapezio con l'osso occipitale. Dunque vedete che è un percorso in parte sovrapponibile a quello del re del canale principale di rene che si differenzia per questo vaso dorsale. Per quanto riguarda il luo longitudinale del rene qui vediamo un'immagine del luo longitudinale del rene questo nasce lo vediamo qui a destra all'immagine dal punto luo che è il quattro rene e sale sovrapposto al canale principale lungo la zona mediale del polpaccio nel solco trasoleo e gastrocnemio percorre quindi la faccia posteromediale della coscia raggiunge il perineo sale lungo la parete addominale in sede paramediana e lungo il torace in sede paravertebrale sempre affiancato al canale principale fino ad anastomizzarsi in sede precordiale col 17 vaso concezione Tang Jung prendendo contatto col pericardio dal 17 Tang Jung e dal pericardio un ramo si dirige posteriormente per diffondersi sotto la quinta vertebra dorsale in corrispondenza del punto 11 vaso governatore Shantao il canale distinto di rene o canale divergente di rene ha un percorso in parte sovrapponibile e in parte diversi da quelli che ha appena descritti parte dal punto 10 rene all'estremità interna della piega poplitea sempre tra i tendini dei muscoli semi tendinoso e semi membranoso e con un breve percorso trasversale si dirige al centro del cavo popliteo si unisce con il 40 vescica e dal 40 vescica sale fino al rene con un percorso comune al divergente di vescica dal rene poi si dirige posteriormente si anastomizza con il punto vescica 23 e poi entra nel percorso circolare del Dai Mai il vaso straordinario della cintura esce dal Dai Mai e si congiunge col canale principale in sede periombilicale al livello del 15 rene dal 15 rene sale assumendo un percorso interno attraversa il diaframma si ramifica il cuore raggiunge la gola in corrispondenza del punto vaso concezione 23 prende poi un tragitto posteriore dalla radice della lingua alla regione cervicale riunendosi al divergente di vescica al livello del punto vescica 10 Tienzù nella regione occipitale da ultimo vediamo un canale straordinario il canale straordinario Ren Mai il Ren Mai nasce insieme con il Chiang Mai e con il Du Mai dal tronco comune emergendo nel centro del perineo nel punto 1 vaso concezione Hui Yin risale poi in corrispondenza del bordo superiore della sinfisi pubblica sulla linea mediana dove si trova il punto 2 prosegue questo percorso sulla linea mediana anteriore dell'addome raggiunge l'ombelico in corrispondenza del punto 8 e poi arriva al punto 15 a livello della giunzione sternoxifuidea inizia quindi il percorso toracico e percorre la superficie anteriore dello sterno fino alla fossetta sopra sternale dietro il margine posteriore dell'incisura giugolare dove si trova il punto 22 sale alla gola sempre lungo la linea mediana raggiunge il punto 23 in corrispondenza del bordo superiore dell'osso ioide arriva al viso nella depressione al centro della piega mento labiale dove si localizza il punto 24 chien giang equidistante dal mento e dal labbro inferiore in corrispondenza del 24 inizia il percorso dei due rami facciali che contornano le labbra si anastomizzano con il punto 4 stomaco tizang situato all'altezza della rima labiale sul prolungamento del solco naso genieno e convergendo nel punto 28 vaso governatore yin jiao in sede gengivale tra le radici degli incisivi superiori dal 4 stomaco sale nel volto anastomizzandosi con gli altri punti dello yamming il 3 stomaco il 2 stomaco l'1 stomaco in regione infraorbitaria per terminare in corrispondenza del punto 1 vescica al canto interno dell'occhio un ramo secondario si stacca dal punto 1 vaso concezione hui yin e risale lungo la colonna vertebrale fino al dorso il remai ha anche un vaso luo longitudinale che nasce dal punto vaso concezione 15 e si diffonde in sede pigastrica con numerose ramificazioni che si estendono anche al bordo inferiore dell'arcate costali ho voluto fare questi esempi di alcuni percorsi dei canali principali secondari e straordinari per dare l'idea della complessità di questi canali e di tutti i punti di acupuntura che di volta in volta vengono attraversati ovviamente ognuno di questi canali ha un percorso suo proprio punti suoi propri e ovviamente anche una sintomatologia sua caratteristica video di medicina dall'Italia alla Cina a cura del dottor Lucio Sotte visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su avupuntura medicina cinese medicina integrata www.luciosotte.it